Buongiorno, è il 16 maggio del 2016, ci troviamo a Miami nello studio del professor Perito qui a Coral Gable e siamo lieti di parlare con il professor Joseph Banno che ci presenta le plasmacellule arricchite nel trattamento della disfunzione erettile e della malattia di la Peroni. Hi Mr. Banno, how are you? Fine, fine. Speak about the platelet-rich plasma technology. Platelet-rich plasma has been around for many years, now it's exciting new field in the field of sexual medicine. Platelet-rich plasma is blood taken from the patient, placed in a centrifuge, and the platelet-rich portion of the blood is injected into the patient. It forms a scaffolding which attracts new stem cells to the damaged area and also releases alpha granules and certain growth factors which help repair the damaged portion of the penis. Di quanti trattamenti necessita il paziente per avere un miglioramento della situazione? How many treatments the patient needs to improve the pathology? With Peroni's disease, a patient may need two to four treatments. If the patient has erectile dysfunction where he no longer responds to Viagra or Cialis, he simply may only need one treatment. È una procedura sicura, ci sono dei rischi per il paziente. Is the procedure safety for the patient? There are any risks for him? That's the beautiful part about the procedure. It's effective and safe. In over 200 patients that I've treated, I've not seen any complications whatsoever. Possiamo dire quindi che questa è una tecnica rivoluzionaria nel trattamento della disfunzione rettile e nel trattamento della malattia di Peroni. I risultati ci daranno ragione nel tempo. Grazie, grazie Mr. Banno. You're welcome. Guset, grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.